Ciao Cinevusi.it, vi svelo un segreto, il 13 ottobre nelle sale è uscito la ragazza della palude, film di Olivia Newman che trasporta su schermo il romanzo di Delia Owens, best seller, che ha venduto in tutto il mondo circa 12 milioni di copie che non sono poche. La distribuzione è affidata a Warner Bros Italia e la produzione è di Hello Sunshine. Altra cosa tecnica che volevo dirvi, abbiamo un bel brano inedito scritto appositamente per il film e interpretato da Taylor Swift dal titolo Caroline. E perché Caroline? Perché il film è ambientato nella Carolina del Nord. Nel cast figurano tre, vi parlerò solamente di tre attori principali che sono i protagonisti della storia. Abbiamo Daisy Edgar Jones che interpreta Kaya, Taylor John Smith che interpreta Tate e l'unico che non ha dei tre, che non ha il secondo nome nel nome, Harris Dickinson che interpreta Chase Andrews. La trama vede questa località della Carolina del Nord, come abbiamo detto, che si chiama Barclay Cove, un villaggio di pescatori che si muovono da un punto A a un punto B sulle barche. Le scene con dei mezzi di locomozione su strada asfaltata saranno rare, elemento che nel film non viene sottolineato, però mi è piaciuto vederlo perché mi ha ricordato ad esempio anche il film La terra dei figli. E all'interno di queste, a solcare queste acque, di queste paludi, abbiamo Kaya, la ragazza della palude, definita così perché appunto viveva lì in questa baracca con la sua famiglia. Il film inizia con l'omicidio di una persona, un certo Chase, Andrews e attenzione. La polizia ritrova all'interno della palude il corpo di questo Chase Andrews e giustamente viene portata a processo incolpata Kaya, mentre lei aspetta che venga processata, attenderà giustamente in carcere. Avremo uno dei personaggi, degli altri personaggi secondari, ma che come dicevo circondano le schiere delle conoscenze di Kaya, Tom Milton, che rappresenta l'avvocato. Vedremo poi attraverso vari flashback come si siano incontrati più e più volte nei momenti in cui Kaya era bambina e andava a scuola e cercava di socializzare. e quindi Tom sarà colui che attraverso i dialoghi ci introdurrà al flashback di Kaya bambina. La storia sarà ambientata, switcherà, con questo montaggio alternato tra le scene presenti e i flashback che raccontano il passato di Kaya, questa piccola bambina che ha sempre vissuto fin dall'infanzia all'interno della palude. Circondata da una famiglia abbastanza numerosa, con tre sorelle e un fratello, madre e padre. Il padre però ha la caratteristica di essere un uomo molto violento e per via di questa sua violenza non si vorrà far voler bene dalla famiglia. E quindi Kaya presto o tardi si ritroverà abbandonata perché mano a mano dalla cascina iniziano ad andarsene via le sorelle, la madre e per ultimo il fratello e lei rimarrà con il padre. In assenza degli altri componenti familiari stringerà un minimo, poco poco di più il rapporto con il padre che prima non aveva, nonostante lui rimanga una persona molto violenta. E Kaya inizierà, in assenza di amici e in assenza di figure familiari di un certo spessore, quali la madre e i fratelli e le sorelle, a familiarizzare con la natura esterna alla sua casa. E quindi inizierà ad appassionarsi agli animali, in particolare agli uccelli e quindi collezionerà le piume del cigno, dell'anatra, dell'uccello sparviero che arriva solo in primavera, io adesso sto tirando un po' così le somme. Quindi diventerà una biologa botanica espertissima di animali, piante e tutta la flora e la fauna che circonda la palude. Inizierà anche a prendere ben presto i motori in mano, quindi a muoversi con o senza il padre su questa barca, in cui conoscerà poi anche Tate, quindi amico di infanzia, lei era bambina, lui era bambino, e si rincontrano, diciamo, quando Tate va a pescare, si ferma con la barca, quindi Kaya passa, parlano del più e del meno, e quindi crescono assieme, anche se il padre è restio alla presenza di Tate. Un giorno arriva la lettera della madre, che a noi spettatori non verrà letta, la leggerà solamente il padre, si arrabbia, la strappa e se ne va. Se prima era un minimo supportato dal padre, adesso deve completamente cavarsela da sola, quindi inizierà anche a scendere sulle coste della laguna, a raccogliere le cozze, e scopriremo un lato, questo suo bel lato di ragazza molto vispa, molto furba, perché va da questo emporio gestito da Mabel e Jumpin, che sono due, una coppia di uomo e donna, di signore di colore, andrà in questo, sì, questo emporio che vende un po' di tutto sulla laguna, e le dirà, io so che compri, dirà a Pumpin, a Jumpin, io so che compri le cozze, se vuoi io te le raccolgo, te le porto, tu me le paghi. Quindi comunque, un pensiero del genere da una ragazzetta di 7-8 anni, interessa molto, diciamo, l'aspetto narrativo del film, e anche, porta anche l'attenzione alla coppia, Mabel e Jumpin, perché troveranno in Kaia una ragazza furba, vispa, poi conoscono anche i genitori, iniziano ad intuire che qualcosa non va, che probabilmente è rimasta sola, quindi iniziano ad affezionarsi a lei, a cercare di proteggerla come possono. Passano gli anni, nel frattempo noi ritorniamo, ogni tanto veniamo catapultati nel presente in cui il processo sta andando avanti, con Tom che fa da avvocato difensore a Kaia, e vedremo mano a mano le varie testimonianze dei testimoni nel presente. E quindi il film prosegue in questa linea parallela che ci porta avanti il presente e il passato. Kaia, bambina, vedremo come fin dall'infanzia è una ragazza che è sempre stata mal vista, mal additata, considerata un outsider della società, e quindi relegata appunto nella palude, vista come una persona dal quale starsene lontano, e selvaggia, etichettata come un mostro. E questo aspetto porterà, diciamo, l'attenzione, poi soprattutto anche la bellezza estetica di Kaia, che diventerà comunque nel corso della sua vita adolescenziale una bella ragazza, indubbiamente, porterà ad avvicinarsi anche ad un aspetto che la natura non poteva dargli. Lei ormai cresciuta, abituata ad avere tutto dalla natura, tutto ciò di cui hai bisogno per sostentarsi, tranne una cosa la natura non gli poteva dare, l'amore. L'amore e tutti i suoi pro e i suoi contro. Crescendo rincontrerà Tate, il ragazzo, il ragazzino con cui si frequentava da bambina, e con Tate nascerà un bell'amore. Tate è esattamente come lei, è sempre vissuto all'interno della laguna, e quindi è esperto anche lui di piume di uccelli, di flora e di fama. E quindi tra di loro scoppierà un amore, anche perché sono molto simili caratterialmente e per passioni, fin quando poi passerà del tempo e il cuore di Kaia si aprirà, dopo una grande delusione, a Chase, che rappresenta l'identico opposto a Tate. E quindi abbiamo questo bel rapporto di Ying e Yang, il ragazzo buono, premoroso, generoso, altruista, in gamba, e il ragazzo piacione, arrogante, gradasso, che pensa di poter raggiungere tutto con la sua intelligenza, la sua forza, i suoi soldi. E quindi anche, dopo un tot di tempo, Kaia ricomincerà a provare cosa significa amare, stavolta per Chase. Ritornerà a Tate, ci saranno vari problemi, varie storie, e Kaia si ritroverà con due piedi in due scarpe. Il ritorno di Tate la scombustolerà, ma lei in quel momento sta con Chase, però Chase, diciamo, non è che la tratti benissimo, e quindi lei si ritroverà presto o tardi scivolare in un vortice di stress, di disperazione, di tunnel senza via d'uscita. E l'unica cosa che realmente la terrà viva e l'ha sempre tenuta viva è la palude, dove lei si rifugia perennemente, dalla quale lei non se ne vuole andare. La palude che gli ha sempre offerto tutto, senza chiedere mai nulla in cambio, che l'ha sempre aiutata, l'ha sempre supportata. Le ha fatto da padre, le ha fatto da madre, e quindi c'è questo bellissimo concetto di natura materna anziché matrigna, cioè è una natura affettuosa con Kaia. Ritorniamo al presente, il processo termina, ovviamente non vi dirò come. Ci sarà una svolta nei termini dei suoi rapporti interpersonali, con Jumpin', con Mabel, con Tate. Questo quindi è quello che pensavo su questo bel film di Olivia Newman. Io vi invito, come sempre, a recuperare, io vi invito a recuperare solamente i film che secondo me vale la pena di vedere. Detto questo, ci salutiamo, lasciate like, iscrivetevi, commentate se volete, io ci ho sempre piacere. E quindi niente ragazzi, un bacio a tutti.